ciao a tutti ragazzi come andiamo bentornati qui sul canale times gadget oggi si torna a parlare di accessori dei galaxy s22 s22 ultra e s22 plus a grande richiesta proprio da parte vostra e lo andiamo a fare andando a vedere due cover della mouse case due cover davvero molto interessanti io adoro questa azienda perché devo dire produce i prodotti in maniera intelligente ma con una grande qualità costruttiva prima però di partire vi volevo sempre ricordare se siete interessati all'acquisto di questi prodotti a queste due cover ma anche poi tutte le altre varianti presenti sul mercato e avete un s22 e un s22 plus come anche per gli s22 ultra io chiaramente vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione ma qui sotto in descrizione vi lascio anche oltre i link ad amazon anche link al direttamente al sito ufficio dell'azienda e i link al mio canale instagram mi raccomando invito sempre a seguirmi anche su quel canale se siete interessati a vedere tutti questi prodotti che mi arrivano in anteprima prima poi delle recensioni qui complete su youtube e vi lascio anche il link al canale di telegram a un canale a cui vi invito ad iscrivervi non solo per farci due chiacchiere per contattarmi ma per quello lì se volete contattarmi c'è anche instagram che è molto più diretto ma vi invito anche ad iscrivervi al canale di telegram se volete poi andare a scaricare e trovare tutti i vari wallpaper che mi chiedete spesso che vedete e che utilizzo nelle varie recensioni nei vari post su instagram nei vari reel eccoli trovate tutti lì sopra e poi su quel canale vi condivido chiaramente tutta una serie di codici sconto e promozioni di tanti prodotti di tanti gadget di tanti accessori che si trovano su amazon comunque aperta e chiusa questa parentesi andiamo a vedere questi nuovi prodotti queste nuove cover della mouse case che devo dire ragazzi è un'azienda come dicevo prima mi piace tantissimo per la loro che studiano il design dei loro prodotti la confezione di vendita è molto minimale abbiamo solamente questa questa cartone questo cartoncino qui questa scatola di cartone cartone riciclato quindi ottimo perché non c'è tanto spreco di materiale anche perché c'è uno spreco inutile delle volte di materiali di plastica e di cartone perché poi sono confezioni che poi una volta utilizzato il prodotto preso lo andiamo a buttare quindi non ci dobbiamo fare nient'altro ma all'interno come al soldo troviamo ed è l'unica azienda a metterlo un fogliettino che ci ci consiglia di fare attenzione se utilizziamo un pacemaker oppure abbiamo problemi di cuore a utilizzare queste cover vicino al cuore vicino al petto perché perché in pratica queste cover a differenza di quelle più recenti per gli s23 ultra per gli iphone 14 però che tra virgolette devono arrivare ce l'ho tutte le serie nuove quindi arriveranno a breve nelle prossime nei prossimi giorni la settimana prossima anche qui sul canale comunque differenziati quelle queste facendo parte dell'anno 2022 quindi per gli s22 hanno un auto allineamento che in pratica è un mac safe simile però il prodotto è pensato è un sistema proprietario della mouse ideato anche molto prima del mac safe e già ve l'ho fatto vedere sull'iphone 11 pro max ecco se siete interessati anche a quei prodotti se nel caso avete un iphone 11 pro precedente vi lascio il link qui sotto in descrizione però in pratica si data di un simile mac safe dove abbiamo quattro calamite però su tutti e quattro gli angoli questi servono non purtroppo per poter utilizzare gli accessori nuovi mac safe ma per poter utilizzare gli accessori che vi offre invece la mouse anche per esempio il portacarte che io adesso ce l'ho uno qui con me poi ve lo farò vedere con calma per gli iphone 14 ma questo qui è quello con mac safe però per intenderci è questo qui il prodotto io ce l'avevo anche questo qui prima con l'auto allineamento della mouse però adesso purtroppo non l'ho portato qui con me in florida e quindi non ve lo posso far vedere però comunque sul sito trovate tutto vi lascio anche il link direttamente per questi piccoli accessori ad amazon ecco proprio per questo auto allenamento dovete stare attenti appoggiarlo al cuore e questa è una cosa che apprezzo ragazzi perché fra le tante cover che io ho recensito e recensisco e che hanno le calamite hanno tutta una serie di tecnologie hanno i mac safe nessuno nessun'altra azienda vi dice di stare attenti e vi avverte di fare attenzione a questo tipo di calamite se le avvicinate al cuore che è una cosa importante che anche io vi consiglio di notare e di stare sempre attenti se nel caso avete utilizzato un pacemaker comunque detto questo andiamo a vedere un po' più da vicino come è fatta questa cover cover davvero molto interessante come avete notato è la versione in walnut davvero bellissimo al tatto mi piacciono tantissimo anche la finitura dei materiali anche la risoluzione di questi materiali sono veramente dettagliatissimi e molto belli perché sono sirici ma non vanno mai scivolare non fanno mai l'effetto saponetta brand dell'azienda qui sotto mouse veramente bello anche il logo bianco su nero e poi all'interno abbiamo tutta questa cover che è tutta rivestita in questo panno vellutato mi piace perché comunque evita di far graffiare la nostra back cover dei nostri telefoni che sono in vetro quindi se vi portate dietro quando l'andate inserire qualche granello di polvere o qualcos'altro comunque non vi si dica perché non è plastica è una cosa che apprezzo tanto in più qui sotto abbiamo una cosa che non troviamo più purtroppo dico purtroppo perché mi dispiace sulle nuove cover per l'iphone 14 per gli s23 ultra abbiamo il doppio alloggiamento per le sim oppure anche per le schedine di memoria anzi prima sugli iphone 11 pro per le cover sulle cover che avevo prima sui precedenti modelli la mouse è stata la prima anche a fare il porta spillino per andare a togliere le sim il carrellino quello per esempio è una cosa utilissima invito la mouse se mi sente a riproporre quel tipo d'alloggiamento su nuove cover perché è davvero comodissimo per me o per tutti coloro che delle volte viaggiano o che necessino di andare a cambiare la sim tra un telefono un altro quella lì il porta si porta spillino qui dentro era una cosa che non aveva prezzo così non ve lo perdete e sapete che all'interno della cover comunque oltre a questo sul bordo perimetrale qui andiamo a trovare invece vedete questa questa linea verde ecco questa qui è l'air shock questa qui in pratica è la tecnologia che ha reso poi famoso le cover e chiaramente anche l'azienda e ha reso famose i suoi prodotti per l'alta resistenza agli urti e cadute in pratica è una tecnologia studiata appositamente e proprietaria di mouse che rende le cover estremamente robuste e resistenti come poche altre a urti e cadute in pratica è un mix tra cuscinetti d'aria qui e all'interno poi abbiamo tutto questo mix anche con il tpu quindi il tpu che all'interno poi ha questo cuscinetto d'aria continuo che serve però per andare a ammortizzare e assorbire l'urto e la caduta è davvero fenomenale ragazzi ve lo posso assicurare perché non parlate tante mi è accaduto in questi giorni e vi posso dire che non si è fatto nulla e lo posso dire di pochissime cover che hanno una protezione di questo genere i bordi sono estremamente duri quei ragazzi sono molto molto rigidi anche la cover è tutta rigida non c'è verso di andarla a torcere a piegare non è assolutamente un quel genere tipo di cover e anche qui i bordi superiori sono molto rigidi anche questo qui sotto col tutto che ha i fori e comunque diventa molto più rigido rispetto a tante altre cover che solitamente avendo i fori qui sotto vanno sempre un po a diciamo a fuori uscire o si vanno sempre un po ad allentare fanno sempre un po l'effetto elastico perché abbiamo i fori qui sotto per le porte invece questi qui sono molto rigidi i fori qui sotto comunque sono abbastanza ampi e soprattutto questo qui della porta usb c mi ha permesso di andare attaccare tutta una serie di pennette e questo qui lo apprezzo particolarmente perché le utilizzo quotidianamente attacco anche spesso ssd esterni su questi telefoni e quindi su questa qui non ho avuto mai nessun tipo di problema nessun tipo di problema anche con la s pen sia nel tirarla fuori ma anche per scrivere perché come molti di voi sapranno purtroppo con i nuovi mac safe abbiamo sempre un problemino quando andiamo a utilizzare le calamite o gli accessori con la s pen perché dove ci sono le calamite la s pen purtroppo non funziona invece in questo caso dato che sono calamite penso differenti ed è un sistema proprietario non ho mai avuto nessun tipo di problema con queste copre e questa qui è una cosa che apprezzo tantissimo nella parte anteriore abbiamo i bordi molto alti soprattutto come dicevo prima sono molto rigidi quindi è una cosa che mi piace perché vanno a proteggere abbastanza il display poi se volete proprio proteggerlo proprio del tutto vi invito anche a provare le screen protector e i vedi temperati della mouse case che sono ottimi però comunque abbiamo i bordi abbastanza alti quindi non vi dovete preoccupare se volete poggiare il telefono con il display rivolto verso il basso i bordi come sono fatti? allora prima di tutto abbiamo forellino qui per l'accetto da polso e bordi qui leggermente lisci ma nemmeno troppo sono di un materiale si plastica ma hanno una lavorazione che le rende non dico ruvidi però comunque non sono mai scivolosi ragazzi è una cover che non fa mai l'effetto saponetta questo qui ve lo posso garantire e mi piace perché non abbiamo la righettatura come per esempio è stata giustamente fatta sulle nuove cover per gli iphone 14 o anche quelle per l'S22 Ultra che poi arriveranno a breve come ho detto prima sul canale comunque abbiamo questo tipo di righettatura che è stata fatta quest'anno qui non ce l'abbiamo però comunque è una cover che non scivola mai questo qui mi piace perché comunque fa un po' l'effetto grip e poi abbiamo qui dei pulsanti che purtroppo perché mi piacevano sulle nuove cover non ce l'abbiamo ma su questi modelli dell'anno scorso sia per gli S22 ma anche per quelli lì per gli iphone 13 o 13 pro abbiamo pulsanti celesti un tocco di stile un po' per farsi riconoscere un po' per fare qualcosa di differente hanno fatto questi pulsanti celesti devo dire sono belli ragazzi e poi si spingono benissimo hanno una corsa perfetta a livello di velocità di click una risposta proprio al tocco fantastica mi piacciono tanto non sono tanto mobili ma nemmeno tanto duri da spingere e si cliccano davvero molto molto bene devo dire che è una cover che è bella è bella è elegante ah poi altro punto a favore di questa cover la protezione qui dietro per le fotocamere il foro guardate qui come è fatto quasi a filo qui sotto a filo anche qui sopra devo dire è fatto molto bene mi piace ma soprattutto poi guardate qui l'altezza che va a proteggere le fotocamere l'altezza di questa cover di questo bordo quindi potete stare tranquilli anche quando vi cade o quando per esempio ce l'avete in questa maniera e lo strusciate per caso perché non ci pensate comunque potete stare tranquilli perché sono sicuramente ben protette ecco però purtroppo non sono cover che sono compatibili con il proteggi lenti quelle singole di altre aziende lo so ve lo dico perché qualcuno di voi mi ha detto che le usa ecco per esempio quelle lì non le potete utilizzare perché comunque le camere qui vanno a filo e quindi non riuscireste a fare entrare le cover oppure dove vi salterebbero sicuramente poi il proteggi lente comunque non vi deve preoccupare se utilizzate queste cover perché comunque le camere sono protette il legno devo dire è molto bello abbiamo anche la variante in bambù e abbiamo anche una variante in tutta gomma molto gommata devo dire mi piace anche quella tutta bianca tutta nera con spruzzi bianchi come se fosse vernice spruzzata bianca molto bella anche quella finitura questo qui però è devo dire molto elegante poi se prendete il portacarte della mouse case però quello lì con l'auto allineamento che fa parte della precedente serie di wallet per queste cover e anche per le cover precedenti si abbina anche molto bene ve lo faccio vedere questo qui perché questo qui si ok è quello nuovo con il MagSafe dove abbiamo anche il puntinato all'interno però alla fine è questo qui è il medesimo ragazzi abbiamo sempre il loghetto qui mouse abbiamo sempre questo tipo di similpelle finta pelle martellata però molto bella dove all'interno abbiamo la possibilità di alloggiare due carte oppure anche 4-5 built-in da visita abbiamo anche quella protezione per le carte da eventuali calamite sia sul MagSafe che chiaramente anche su questo qui molto a questa qui in walnut poi andiamo a parlare dei prezzi abbiamo anche un altro modello per cui io secondo me è la più bella e vado pazzo per questa variante ma non solo per quanto riguarda queste mouse ma proprio in generale anche di altre varianti anche di altre aziende quando mi arriva questa variante è quella che preferisco rispetto a tante altre poi finiture e colorazioni quella lì in carbonio ce l'abbiamo in carbonio non è Kevlar ma è davvero molto molto bella devo dire è una variante bellissima non solo la vista perché è molto elegante ma proprio anche al tatto il touch and fill che ha questa finitura questa lavorazione del carbonio è veramente piacevolissima leggermente soft touch non si va a rigare non va a trattenerle impronte il grasso e soprattutto poi non fa anche questa qui l'effetto saponetta delle volte ok lo potrebbe fare con le mani molto fredde però è raro perché comunque ha sempre quel minimo di grip che vi serve per andare a impugnare un telefono anche un telefono di dimensioni così grandi all'interno non ve la faccio vedere che comunque è la medesima il medesimo modello dell'altro ed è una cover che comunque vedete anche qui come si va a mettere qui vedete anche la qualità dei bordi no? quello di cui vi parlavo prima si fa fatica delle volte a metterla la cover vi consiglio di mettere prima la parte superiore e poi quella inferiore perché vedete i bordi estremamente rigidi e questa qui è sinonimo anche di qualità perché con il tempo non si va andando ad allentare e soprattutto in caso di caduta da grandi altezze è sicuro che il telefono rimane all'interno della cover non schizza all'esterno, non schizza fuori cosa che succede ed è successo con diversi tipi di cover che tutto che si dicevano che erano super protettive però alla fine quando è caduto il telefono il telefono è schizzato fuori perché i bordi non reggirono perché erano leggermente più morbidi di questi quindi anche questo qui è una cosa molto importante ma guardate qui quanto è bella questa cover non solo col telefono nero perché si abbinerebbe benissimo ma guardate anche che è bella con il Samsung bianco con il loghetto che riprende il bianco qui sotto mouse e con tutta questa finitura che poi oltretutto mi piace perché è una delle poche cover che in questo caso si allinea, è tutta allineata quindi non abbiamo una differenza di altezza tra comparto fotografico e il resto della cover anche qui pulsanti celesti abbiamo i forellini per l'accetto da polso classici forellini anche nella parte inferiore e classici anche bordi riazzati nella parte anteriore anche questo devo dire ragazzi è veramente un bellissimo modello anche su questo, lo faccio vedere al volo così sta benissimo se lo prendete il wallet in pelle dato che è la similpelle e comunque è lo stesso modello come dicevo di quelle delle precedenti cover della mouse che si abbinano a queste qui per le S22 ho provato, dato che sicuramente qualcuno me lo chiederà a provare a vedere se si attaccavano quelli con MagSafe e purtroppo niente ragazzi non c'è nulla da fare comunque ragazzi, allora per arrivare ai prezzi di queste mouse case vi ho detto che ci sono altri due modelli quello in bambù e quello in gomma leggermente gommato sul retro, nero e bianco e mi sembra che ci sia anche quella tutta trasparente però i prezzi si aggirano dato che si sono abbassati un pochino rispetto al lancio tra i 40 e i 50 euro lo so, i prezzi non sono dei più contenuti però comunque sono prezzi per cui vale la pena vale la pena il prodotto perché è veramente di alta qualità ok, manca il MagSafe e forse è una cosa che potrebbe far storcere il naso a molti ma se avete o volete un portatessere ce l'hanno direttamente loro potete prendere quello là originale della mouse altrimenti se vi piace questo qui potete sempre optare per un anello adattatore universale per MagSafe così potete utilizzare sia i prodotti mouse che i prodotti MagSafe di terze parti ma è una cosa che vi consiglio perché anche se è un prezzo elevato perché all'inizio costava 55 euro al lancio adesso poi a distanza di quasi un anno si è abbassata leggermente ma siamo sempre tra intorno tra i 40 e i 50 come vi dicevo prima delle volte in sconto si può trovare anche sotto i 40 per esempio su Amazon Warehouse ci sono delle offerte di questo genere però vi posso dire che ne vale assolutamente la pena perché sono cover estremamente protettive e con una grande qualità costruttiva soprattutto poi sono molto belle anche proprio le finiture e le colorazioni comunque fatemi sapere anche voi cosa ne pensate riguardo questi prodotti se vi è piaciuto questo video mi raccomando ragazzi lasciate un bel like e cliccate il pulsantino qui sotto per la campanella e il pulsantino rosso per iscrivervi al canale e per sapere sempre quando sono stati caricati nuove video recensioni e poi mi raccomando ragazzi qui sotto nei commenti fatemi sapere la vostra opinione se avete provato o meno queste cover e seguitemi anche su tutti gli altri canali social detto questo noi ci vediamo alla prossima video recensione ragazzi da Time's Gadget per Giorgio buona giornata a tutti e grazie ancora e grazie a tutti e grazie a tutti